...dare veramente tanto la gente che ti ha permesso, dopo tanti anni, di essere qua ancora dinnanzi ai teleschermi. E Roberto dice, grazie a voi, grazie, cuccate il gelataio in omaggio e ricordatevi, quando qualcuno mi dirà nella vita, ho comprato, attenzione, il Johnny Sheffa 99.000 e mandato in omaggio al gelataio, non ditelo, se no mi ricoverano, chiaro? Alla prossima, ciao, vi voglio bene, ciao, grazie. Parola di baffo!